4 brevi curiosità, diciottesima parte Questi che vedete nella foto sono due proiettili che si sono scontrati a mezz'aria e si sono fusi insieme Questi proiettili risalgono alla prima guerra mondiale, più precisamente alla battaglia di Gallipoli che non si trova in Italia ma in Turchia, che è venuta appunto nel 1916 in più il fatto che due proiettili si scontrino a mezz'aria è una cosa che quasi accade raramente insomma come si vuol dire che una cosa... tutte le cose non sono impossibili e possono sempre accadere come in questo caso Queste che vedete sono delle cipolle e magari per la loro grande dimensione potreste pensare che magari sono state photoshopate ma invece no, sono reali ed è la varietà delle cipolle di giarratana che ovviamente, come suggerisce il nome, sono coltivate nella zona del paese di Giarratana in provincia di Ragusa La forma del bulbo è totalmente appiattita e inoltre l'interno della cipolla è bianco con la buccia di colore marroncino inoltre questa cipolla è così grande da poter raggiungere quasi i 3,5 kg di peso e inoltre ha la caratteristica di avere un sapore molto dolce e per questo viene anche impiegata per un sacco di ricette Vi è mai capitato di camminare lungo la spiaggia e di trovare queste specie di palline marroni e pelose che sembrano dei kiwi? Beh, sappiate che questi sono residui fibrosi di alghe, solitamente zostera o posidonia che venendo strappati magari da delle forti mareggiate e venendo poi modellati a forma di palla da delle correnti finiscono in modo anche massiccio sulle spiagge Sapete cosa sta facendo questo agricoltore? Beh, intanto come si nota subito c'è del fuoco che sta bruciando un intero campo di frumento da qualche parte in America da come si può notare dal tipo di trattore Ebbene, sta trainando un erpice per cercare di rivoltare la terra per far sì di fare un cerchio che eviti l'avanzamento del fuoco Soluzione, direi, abbastanza ingegnosa